Alexa, metti ricordati. Alexa, volume massimo. Alexa, metti ricordati. Alexa, metti ricordati. E' una super tristezza. E non si scherza con le super tristezze. Daniele è stato bannato una settimana fa. E doveva passare una settimana e sarebbe tutto finito, ma non è andata così. Scusatemi, oggi sarà solo volta... E siamo due come altre due K persone, Warren? No, non siamo più due K persone. E' stato bannato perché dicono che ha incitato a odio in chat. O privata o pubblica. Se qualcuno è stato insultato da Sdrumox, alzi la mano destra. E mi faccia sapere. E' orribile questa roba qua. Comunque volevo mettere la canzone Ricordati di Coco. Ricordati! Per rendere la cosa romantica. Sono molto triste ragazzi, anche perché... Anche montare la sigla in quel modo là è stato una merda per me. Mi scendevano un po' le lacrime. Anche perché Sdrumox è stato parte delle due sole live che abbiamo fatto per... Perché lui è un po' metà di tutto questo. Ho fatto il progetto con lui e... Non so fino a quanto rimarra bannato. Gli avevano detto sette giorni, ma... Potrebbe essere che hanno potenziato la... La colpa, la punizione. Orribile. Sono... Tristissimo. Scusatemi se sto così, ma... Che dita di merda senza Sdrumox. Infatti. Dici bene, no no, sos. Hai proprio ragione. Intanto... Sì sì c'è, ma infatti gli è impossibile chattare e apparire. Però il canale c'è. Vorrei intanto ringraziare tutta la gente che... Ieri è stato... Rip Sdrumox. Rip Sdrumox, dici bene. Piano Zavec. Oggi è passato un mese dalla maratona e voglio ringraziare... Tutti quelli che si stanno riabbonando e ricordare a tutti che potete riabbonarvi cliccando sopra a destra, rinnova abbonamento. È gratis se l'avete fatto la prima volta con Prime. Sarà gratis pure questa volta qua. A meno che in queste orette in cui non ci siamo visti, da quando è passato un mese ad adesso, non avete cambiato canale e l'avete dato a qualcun altro. In tal caso uscite da questa live perché il mio rispetto nei vostri confronti è veramente sotto le scarpe. Oggi dobbiamo giocare un horror nuovo, in realtà non così tanto, che si chiama Simulacra. Ripeto, è orribile che lo show si chiami Poltergeist e sono solamente in uno. Io cercherò di dare il mio meglio, anche se il mio meglio è spesso condiviso con quella che era l'anima di Sdrumox. Scusatemi, dovrei fare entertainment, dovrei essere tranquillo, ma non riesco neanche a sorridere. Ricordami, ora devo andare via di Time Sun e sentendo questa melodia. Grazie, ma aspetta. Alexa, metti ricordami di Coco. Quando devo ricordartelo? Adesso. A che ora dovrò ricordartelo oggi? Alle 21 e 16. A che ora dovrò ricordartelo? Alle 21 e 16! Purtroppo non riesco a capire. Oggi è successo questo. Quindi ero qua, stavo un attimo montando la sigla di Poltergeist, modificata perché Sdrumox non c'è. La telecamera è qui, qua c'è lo schermo. E la telecamera è quindi oltre la scrivania in un treppiedi. In questo treppiedi c'è legato questo braccio di ferro che tiene la videocamera dove... Perché l'ho messo in un treppiedi e non alla scrivania? Perché la scrivania è molto wobbly. La luce va bene ma la videocamera no, sarebbe stato un problema. Nel mio settare la videocamera è successo che la telecamera è caduta sul mio telefono che si è spaccato, si è rotto l'obiettivo della telecamera e io ho reso la madonna la persona più insultata delle ultime 24 ore. Orribile. Grazie a tutti quelli che si stanno abbonando ragazzi. Riabbonando. E vorrei un attimo ringraziarvi come si deve, leggendovi. Quindi quello che è successo è che sono andato su Amazon dicendo vabbè quanto potrò costare 50 euro l'obiettivo. Ho visto il vero prezzo e ho fatto... Sono sceso giù da MediaWorld perché su Amazon ci avrebbe messo un giorno e a me serviva subito. Scopro che da MediaWorld costa anche un po' di più di Amazon perché era collegata alla videocamera. Avrei dovuto comprare l'obiettivo con una videocamera, non separato. 500 euro in tutto. Ho reso di nuovo la madonna la persona più odiata delle ultime 24 ore e questo è quello che è successo. Un ringraziamento vorrei dare a... Vorrei mandare a Tipane che mi ha prestato questo obiettivo qua. L'altro... Si vede sfocatissimo. Si vede veramente sfocatissimo. Ha un bellissimo effetto se sei una ragazzina del 2000 ma non... Non lo sono. Allora ragazzi vorrei tantissimo ringraziare per l'abbonamento Liuca Alfonso Falcone che ha donato 15 euro. Ciao Marco ti seguo dal canale YouTube da circa 6 anni. Sei un grande? Sei un grande? Oh ce lo siamo detti a vicenda. E in questi anni i tuoi video hanno fatto un salto di qualità incredibile. Guai a chi dice il contrario. Spero un giorno di incontrarti persone, qualche fiera, evento. Un abbraccio. Adesso parliamo un attimo di questa roba qua visto che abbiamo un po' di tempo. Vorrei ringraziare anche per il riabbonamento AlexDrufius7 Link7827 GearFrex ThatSoBob Astraxm CuttiFlamex HelloSweeties2 Che saluto Sballavex NonLoSos PianoDevaEc Stai calmissimo eh TriposVec XGiuppo GabrieleHau AleChan RuelRoll LionHub Gabuz92 UltimateMark85 FedDava66 Enzone25 WhyNotNick Nisseint Liactus Nia Falsahat TheFarmacists E tutti quelli che si E tutti quelli che si sono abbonati Mentre non ce l'avamo Che non nominerò Perché bisogna stare in live La videocamera assassina Avete clippato il momento Ragazzi è stato Ragazzi è veramente una Un periodo di merda Voglio anche Parlarvi di quello che è successo Qualche giorno fa È stata una cosa Io adesso credo alla magia Perché è successo una cosina In banca Avantieri Precisamente Michael Folletto Dice Il canale Voglio il 16 novembre Reazione da Pokemon Spada O Scudo Che in realtà Ah già il 15 Sì 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 In realtà Loro La Nintendo Mi manderà Pokemon Spada E Scudo Farò scegliere a voi Quello che Dovrò giocare Siccome siete tutti maschietti Sceglierete Spada A meno che non siete quei maschietti Deboli Che devono provare Che sono forti Quindi ora ho detto Che scelerete spada E quindi scelerete scudo A meno che non siete quei maschietti Così deboli Che non vogliono entrare In queste due categorie E scelgono comunque Spada Perché non è importante Quello che dico io È importante quello che pensate voi Dipendentemente da quello che dico io Quindi è orribile Quindi giocheremo spada Avrò scudo E la Butto via Ehm Sì 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 Giocheremo spada Qual è il più bello dei due Come design Qual è il che vi piace di più All'inizio io ho detto Wow spada Anche perché un po' Mi ha ricordato Sif Di Dark Souls Però quanto è bello anche scudo Fatemi anche sapere Cosa ne pensate Di questa roba qua Che hanno tolto Moltissimi Pokémon Ditemi che cazzo ne pensate Scudo scudo Sì 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 Ma immaginavo Essere tutti scudo Ci vediamo al poll Di quel giorno là Vediamo Mark è come se stessi chiedendo È più bella la chiappa Sinistra o destra Ehm Non lo so Perché lo scudo difende La La spada Attacca Lo so Mentre invece il culo difende Basta Difende se stesso A volte attacca Ma non Non quando ci giochi Almeno col culo degli altri Non se Dipende anche da quello là Molte Molti modi di vedere quella cosa Se la Marco come va E chiede Homer 6 7 9 Va molto bene Homer In realtà no va malissimo È successa questa cosa qua Porca buttare il mio cazzo di telefono Ehm Ero in banca Due giorni fa Mi sono arrivati Ehm Dei soldi Ehm Con i quali ho comprato anche Ehm Delle Degli ucuvaggiamenti Per dei nuovi format Che porteremo sempre su Twitch Fuori casa Quindi fantastico Allora di pranzo Ehm Non vi voglio dare spoiler Ma In realtà sì Faremo Dei picnic Insieme E recensiremo I peggiori Locali D'Italia Cercheremo quelli che hanno Zero stelle E compriremo tutto il menu Lì Ehm Recensiremo insieme Ve li faremo vedere E Manca a tutti Sdrumox Eugenio992 Manca veramente a tutti In primis a me E quindi niente Sarà figo Perché se avrete Anche locali Che conoscete Essere famosi Perché sono una merda Della vostra città Noi potremo andare là A comprare tutte cose Ehm Avremo il tavolino Il cestino da picnic Andremo da tutti i posti Andiamo sul prato E recensiamo Ehm Encargo dice Mi piace molto di più scudo Come leggendario Ehm Per quanto riguarda i pokemon Me ne sbatto le palle Fa molto più piacere Anche Avere nuovi pokemon E nuove meccaniche E tanti pokemon Riciclati Non è tanto il fatto Che sono riciclati Quanto Il fatto Che la gente Si è incazzata Perché il motto Secolare Di pokemon E You gotta catch them all Devi Catturarli tutti E con E col primo pokemon Della switch E intendo Di quelli la Della serie Originale Quindi no Let's go big Let's go eevee Decidono di togliere Questa regola qua E un po' Un cazzo nel culo Che vi dirò A me Non dispiace Perché io avevo Un po' Abbandonato la serie Visto che Ehm Visto che Mi ero veramente Scrocciato di vedere Gente online Ciao a tutti Belli e brutti Ehm Poi Puoi mutare questa persona Qua per un minuto Ehm Beanbox Mutalo per un minuto Grazie Ehm Mi cercava vedere online Non puoi neanche Parlare Scusatemi Non voglio rischiare Il ban Ehm Mi scocciava vedere online Gente con Pokemon Vecchissimi Un po' Il casual gamer Di Pokemon Veniva Ehm Escluso E più si andava avanti Più era così Infatti gli ultimi Li ho giocati Veramente sporadicamente Mi mancava il viaggio Dove tutti partivamo Allo stesso momento Io non Non mi scambiavo I Pokemon Fra i vari giochi Sapere che adesso Tutti partiamo Fra virgolette Dallo stesso punto Per me è molto Buono Ciao bellissimo Come stai? Ehm Marco Menino Ma guarda che Sdrumot è stato sbannato In realtà no Perché Il ban è stato particolare Perché Era della chat E non è sul canale Ma Sulla sua visibilità Sul fatto che Può chattare Non può apparire E il canale c'è Lui non può fare live C'è Daniele No ragazzi Ho Fatto presente Prima che Daniele non c'è E non ci sarà Mi dispiace Polterguy oggi Ma si tatuaggi Me lo state chiedendo In tantissimi E io ho sempre risposto Risponderò ancora Ehm Sto aspettando Il pagamento Di Twitch Della maratona Perché con quello là Intanto pagheremo Tutta la gente Che ha lavorato quel giorno Eccetto quelli Che hanno lavorato gratis Ehm Serve a questo L'amicizia Serve a questo L'amicizia A ottenere cose gratis Ma 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 non solamente Dagli altri Pure io Do cose gratis A questa è l'amicizia La gente dice Sollievano I momenti difficili Ed è proprio così E io A me che serve una cosa È un momento difficile Vorrei renderlo semplice Ottenendola Sei mio amico Dammela gratis Non farmi pagare Se tu sei Nello stesso momento difficile Ti serve una cosa da me Io te la darò gratis Ragioniamo così A Messina Guarda caso È la città peggiore D'Italia Però un po' Ha senso Voi che ne pensate Io sono onorato Sì Asterion Lost Dice Il problema è che hanno detto Toglieremo dei Pokémon Per concentrarci Sull'aspetto tecnico E sulle animazioni Peccato che Tecnicamente Sia veramente pessimo Non ci ho giocato E neanche tu Non sappiamo Per quanto Possa un trailer Parlare Non lo sappiamo Catania è la peggiore d'Italia Amico mio No Cazzate Cazzate Veramente cazzate bro A me sembrava di passare Veramente da un villaggio A una metropoli Quando andavo a Catania Per quanto ci sia Lafaida Messina Quanto odio Questa cosa l'ho detta Pure nell'altro live Perché non si sente mai di Ah Sietevi in questo paese E però c'è questa città Che si ama Con questa città Queste due città Si amano Quando l'avete sentito Questa frase Mai È sempre un Queste due città Hanno questa storia qua E si odiano Ma sono nello stesso paese Vivono della stessa economia Fanno le stesse cose Eh no Si odiano Non si possono amare No Si odiano Perché vedi questa cosa qua C'è questa città qua Cento anni fa Ha succhiato il cazzo A quella città Di cui era innamorata Quella là Se l'è presa per cento anni Eh sì Vabbè cento anni Vuol dire che sono passate Una generazione e mezza Eh no Quindi si odiano Si Ho capito Arancini o arancina Eh dipende da dove nasci Ah quindi è una guerra inutile Dipende dall'incidente di nascita Casualmente Se io nasco là Devo dire I Se io nasco là Devo dire A Siamo cretini Siamo cretini Siamo stupidi Ma se Sdrumox Si mette una maschera Ci sarà Sdrumox Con una maschera Mi bannano E poi io farò La stessa cosa Con un altro canale Veramente Ferre Le regole di Twitch Che vivirò Da una parte Sono Grazie a tutti